Il nadatore è un fuori campo? Una voce fuori campo o un nadatore? Un nadatore. Allora fatti vedere. C'è una voce, una ballerina, che si chiamava Crystal, e viveva in un regno senza musica. In questo regno non si poteva ascoltare nessun tipo di melodia, perché c'è un ognomo perfido, chiamato Brutus, che governava e che odiava vedere la gente ballare e alcun tipo di musica. Siccome non voleva sentire alcun tipo di suono, aveva un giorno rinchiuso la musica all'interno di una stanza buia del suo castello. Così una mattina Crystal, molto triste, si aggirava nel bosco e si fermò su un laghetto, piangendo a causa del non poter danzare. E qui incontra la sua annunca farfarina. Ciao! Ciao! Che sei triste? Non posso parlare. Che è successo? Non c'è la musica. E perché non c'è la musica? Perché ogni ognomo è perfido, la rincontra la musica. E dove l'hai rinchiusa? Non la voglio. Vieni, ti aiuto io. Vieni con me. Non ti rinvento, secondo me è stato meglio. E adesso? Io che sono una frattata lungherissima. No? No? Oh my gosh. Sì, 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 sì. I nostri protagonisti sono riusciti nella grandiosa impresa e adesso praticamente nel regno si può ballare.